Il 2015 sarà ricordato in Abruzzo anche per la battaglia per impedire la realizzazione della piattaforma petrolifera a Umbrina Mare, a largo della costa teatina. Una battaglia vinta, conferma la senatrice Stefania Pezzopane. Il governo ha cambiato idea e siamo stati noi parlamentari, sottolinea la senatrice, a far capire a Matteo Renzi che quella piattaforma sarebbe stata una sventura per il nostro mare e il nostro turismo. E la senatrice si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Il centrodestra sulla materia, sottolinea, deve solo tacere perché con Silvio Berlusconi che l'Abruzzo è stato decretato area strategica per la coltivazione di idrocarburi. Sono evidenti le responsabilità del presidente della regione Chiodi e del governo precedente, ma a me non piace scaricare su chi veniva prima di noi. Noi ci siamo assunti una responsabilità. Nel momento in cui il governo Monti e poi anche il governo Letta hanno cambiato le procedure e poi con lo sblocca Italia si sono messe fuori dalla procedura le regioni, noi comunque non abbiamo mai abbandonato il campo della battaglia. Anzi, io credo che siamo molto più da considerare i nostri comportamenti. Abbiamo incalzato Renzi, gli abbiamo detto che sbagliava, l'abbiamo detto esplicitamente. Io ho scritto e detto a lui personalmente che era un grave errore quello di procedere su Brinamare. Ci siamo assunti una responsabilità e un coraggio perché spesso dire al proprio leader che sta sbagliando non ti mette in buona luce. Stefania Pezzopane poi condivide la richiesta delle associazioni ambientaliste, far pagare le attività estrattive già operanti in Abruzzo più royalty perché finora sono una miseria, appena 200.000 euro l'anno, in quanto sotto una certa soglia di gas e petrolio estratto in Italia non si paga nulla e putacaso le trivelle attive in Abruzzo sono tutte o quasi sotto tale soglia. Credo e c'è intenzione da parte del governo di rivedere tutta la questione delle politiche energetiche. A maggior ragione però se ci sono questi insediamenti giustamente bisogna equiparare il trattamento di queste grandi società, di queste grandi potenze, di questi grandi lobby a quello che viene fatto in altri paesi. Quindi ci stiamo lavorando.